Buonasera amici, siamo a Leporano, oggi 31 agosto e mi trovo con una band d'eccezione, Spaghetti Brothers. E' un uomo che ha fatto questo, è un uomo, 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 è un uomo. Adesso vi passo il nostro sindaco Vincenzo Damiano. Sì Anna, questa sera sei in veste di direttore artistico e anche di presentatrice, quindi stai crescendo. Sì, è l'ultima serata di questa splendida rassegna dell'Estate Leporanese 2019, quindi questa sera abbiamo gli Spaghetti Brothers. E' un gruppo jazz che ha molto swing, che nel gerbo musicale è un complimento per loro. E' un gruppo, diciamo, sono molto espressivi, sono molto comunicativi e riescono a coinvolgere il pubblico. Abbiamo assistito due ore fa ad una lezione molto bella, che ho apprezzato molto, una lezione di ballo. E so che a fine spettacolo si continuerà a ballare, quindi la gente sicuramente si divertirà. E so che a fine spettacolo si continuano. E quindi passiamo alla parola, alla voce del gruppo. Sì, Nichi Pezzolla, grazie al sindaco, grazie all'assessorato alla cultura per averci voluto qui a Leporano per chiudere questa manifestazione dell'Estate Leporanese. Siamo molto contenti di essere qui e siamo molto contenti che il comune di Leporano abbia per primo nei comuni della provincia, oltre ai comuni di Taranto, sposato questa causa della cultura swing che sta arrivando ormai nell'Italia meridionale, è arrivata in Puglia da qualche anno. E quindi a Taranto già abbiamo la prima scuola di ballo con il gruppo B-Swing, già da un anno. Questa sera abbiamo ottenuto delle lezioni dimostrative di Proma per tutti i concittadini di Leporano e anche per gli ospiti e i turisti che sono qui in vacanza. E questa sera cercheremo di farvi divertire, di farvi ballare. Quindi trasportando in questo spettacolo dal gusto retro, vintage, appunto una musica jazz, una musica swing dagli anni 20 agli anni 50 e ci saranno anche ballerini della scuola B-Swing e altri ballerini che vengono da tutta la Puglia e ci saremo noi, gli Spaghetti Brothers, che cercheremo di farvi divertire. Dopo di noi ci sarà anche un DJ, un DJ set, VJ Muffin, che viene da Bari, quindi la serata continuerà. Vincenzo Cristallo Cosa suoni? Chitarra Chitarra Ciao, io sono Enzo Di Pace, batteria Gianfranco Menzella, sax Gianfilippo Di Renzo, contrabbasso Marcello Ingrosso, piano Fabrizio Scarafile, sassofo Feliciano, lui il suo DJ Muffin E' una serata davvero fantastica con tutti questi bei ragazzi, con una piazza piena di gente che aspetta il vostro concerto. Io voglio ringraziare soprattutto tutti gli amici che hanno apprezzato il nostro lavoro di questa Kermess estiva che sono stati in tanti. E poi voglio anche ringraziare la fiera dell'insulto facile che mi ha dato la possibilità e la potenzialità di fare ancora meglio la rassegna. Grazie. 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 Grazie.